Del nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Abbiamo gridato, salvami mio Dio. Il Salvatore è uno. Il Figlio di Dio è sceso in questo mondo. Non ci sono altri salvatori. Nell'uomo può salvarsi da se stesso. E' una prima verità di fede che dobbiamo professare, credere interiormente e professare. Non c'è altri sotto la volta del cielo in cui possiamo essere salvi se non Cristo Signore. L'uomo tenterà da sé di salvarsi, di trovare una via, per superarsi, per andare oltre i limiti, per quella vocazione interiore che sente di andare in alto verso Dio, a cui immagine è stato fatto. Ma l'uomo da sé non può varcare la soglia, né altri può aiutarlo in questo tentativo di scalare il cielo. Soltanto colui che viene dal cielo può salvare l'uomo. E dal cielo è venuto unicamente Cristo Gesù, Figlio di Dio. E' Lui che troviamo la nostra salvezza. Pertanto apriamo il cuore a Lui, perché Egli ci salvi. Ma come Gesù ci salva? Mettendoci dentro di sé. Una volta che Lui ha preso la natura umana, c'è posto per tutti in Lui, se noi crediamo in Lui. Ecco perché dobbiamo professare la nostra fede, credere fermamente che Lui è il Salvatore. Per questo noi siamo inestati Lui col Santo Battesimo e rivevendo il Santo Battesimo troviamo in Lui la via per andare in alto, realizzarci come uomini, realizzarci come vigli di Dio. Sono elementi così di catechismo che dobbiamo sempre avere davanti ai nostri occhi, perché oggi ci sono tanti maestri improvvisati di verità che dicono il falso e vogliono ingannarvi. E allora a questo unico Salvatore, Gesù, noi innalziamo la nostra preghiera in questo momento e come avete cantato salvami Signore, salvami mio Dio, diciamo O Gesù, salvami. Tu sei l'unico Salvatore. Fuori di Te. Non c'è via di salvezza. Io credo in Te. Tu sei il mio Signore. Il mio Salvatore. Il Salvatore di tutti gli uomini. E il Salvatore di tutti gli uomini. O Gesù, purifica la nostra mente e il nostro cuore perché noi possiamo credere fermamente a questa verità e perché possiamo seguirti senza essere trascinati fuori dalla via che Tu hai tracciato. Ecco perché Ti chiediamo di rinnovare in noi la grazia del Battesimo con questa acqua lustrale che noi benediciamo. Risvegli in noi, oh Signore, i sentimenti che Tu hai posto dentro di noi mediante lo Spirito che ci hai dato nel Battesimo. Risvegli in noi l'impegno che abbiamo preso di seguire la Tua strada. strada di fede in Te nel Padre, Figlio e Spirito Santo impegno di rinunciare al mondo al demonio e alla carne che cercano di sviarci da Te. Signore, rinnovi in noi la grazia del Battesimo perché possiamo vedere quella è la via della salvezza perché possiamo contemplare il Tuo volto perché non siamo attratti dalle cose della Terra perché ci uniamo inizialmente a Te in modo da completare e trovare la piena unione con Te quando saremo arrivati alla Patria. Purifica, oh Signore, rinnovi in noi il Santo Battesimo. In questo giorno del Signore preghiamo umilmente Dio nostro Padre perché benedica quest'acqua con la quale saremo asperse in ricordo del nostro Battesimo. il Signore ci rinnovi interiormente perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Un momento di pausa, preghiamo. Dio eterno e onnipotente che hai voluto che per mezzo dell'acqua elemento di purificazione e sorgente di vita anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna benedici quest'acqua perché diventi segno della Tua protezione in questo giorno a Te consacrato rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della Tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo perché veniamo a Te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale come ordinassi al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo riberati dall'insidio del maligno e custoditi dalla presenza del Tuo Santo Spirito per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, Signore, con il sopo e sarò purificato. Lave, mio Signore, e sarò più bianco dalla neva. Purifichiamo, Signore. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio a quante giungerà quest'acqua porterà a servessa e noi tutti canteremo gloria a Te, oh Signore. Ecco, abbiamo invocato il Signore ci siamo asperse di acqua pura ma c'è un'altra acqua significata da quest'acqua pura naturale è l'acqua che sgorga dal costato di Cristo è l'acqua dello Spirito vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati e l'acqua dello Spirito è questo Spirito che adesso dobbiamo invocare come rugiale che scende dall'alto e riviviche le nostre anime. Senza lo Spirito quest'acqua non significa niente ma questo è il segno di un'altra acqua quella divina che scende dal cielo che sgorga da Dio è quest'acqua che deve irrorare in questo momento le anime nostre invochiamo lo Spirito del Signore Dio Onnipotente ambia misericordia di noi perdoni i nostri peccati per la potenza dello Spirito Santo e si apre la porta della vita eterna preghiamo concedi ai tuoi fedeli Signore Dio nostro di godere sempre la salute del corpo e dello Spirito e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima sempre Vergine salvaci dai mali che ora ti attristano e guida e c'era gioia senza fine per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e viva regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli Amen Dal libro del profeta Esaia Così dice il Signore se toglierai di mezzo a te l'oppressione il puntare il dito e il parlare è empio se offrirai il pane all'affamato se sazierai chi è digiuno allora brillerà fra le tenebre e la tua luce la tua oscurità sarà come il meriggio ti guiderà sempre il Signore ti sazierà in terreni aridi rinvigorirà le tue ossa sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaldiscono la tua gente riedificherà le antiche rovine ricostruirai le fondamenta di epoche lontane ti chiameranno riparatore di brecce restauratore di case in rovina per abitarvi se tratterai il piede dal violare il sabato dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro se chiamerai il sabato delizia e venerando il giorno sacro al Signore se l'onorerai evitando di metterti in cammino di sbrigare affari e di contrattare allora troverai la delizia del Signore io ti farò calcare le alture della terra ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre parola di Dio il Signore sia con voi e con il tuo spiro dal Vangelo secondo Luca dal Vangelo Signore in quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi e gli lasciando tutto si alzò e lo seguì Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa c'era una folla di pubblicani ed altra gente seduta con loro a tavola i farisei e i loro scribbi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori Gesù rispose non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori a convertirsi parola del Signore è stato proclamato il Vangelo è stato mostrato a tutti il Vangelo Gesù è venuto è venuto per la salvezza di tutti nessuno è escluso dalla sua salvezza perché tutta l'umanità che viene chiamata alle nozze dell'agnello soprattutto è per i peccatori ed è per gli ammalati che Cristo viene quelli che si credono più esclusi o comunque più lontani dalla salvezza con questa parola Gesù dice che la salvezza è per tutti e allora nessuno si crede escluso non ci sono malati né nel corpo né nello spirito che credano che il Signore li abbia abbandonati non ci sono peccatori per quanto gravi siano i loro peccati che credano che il Signore li ha abbandonati alla dannazione per noi e per la nostra salvezza discesa dal cielo è un articolo del credo niceno costantoporritano per noi e per la nostra salvezza discesa dal cielo Gesù chiama tutti chiama i lontani ecco un esempio di una chiamata Levi Matteo era un pubblicano gli ebrei lo consideravano un uomo perduto un pubblicano un peccatore ma gli occhi di Gesù si rivolgono su di lui e quando Gesù lo chiama egli scatta in piedi e segue il maestro che lo chiama lascia denaro il banco del denaro lascia la sua vita agiata e subito segue il maestro ma gli imbandisce una mensa dà il pranzo di addio ai suoi amici peccatori e invita il maestro ed è qui che i farisei che seguono sempre le piste di Gesù che fanno una domanda come mai voi mangiate e bevete con gente simile con pubblicani e peccatori ed ecco la sentenza di Gesù che smascara la grattessa dei farisei che si credevano giusti e giusti non erano che credevano che il regno di Dio era soltanto per loro mentre tutti siamo peccatori davanti a Dio mentre la salvezza è per tutti tante volte noi ci comportiamo come questi farisei questi scrivi questi legalisti che ci crediamo giuste e disprezziamo gli altri solo perché non la pensano come noi solo perché non praticano come noi gli esercizi di pietà le pratiche cristiane ma il pensiero di Dio è diverso le vie di Dio sono diverse dalle nostre vie potrebbe anche darsi che tanti che praticano la Chiesa siano esclusi del regno e tanti che sono lontani o crediamo lontani sono chiamati a godere il cibo che Dio ha dato per tutti sono chiamati al regno di Dio perché le vie di Dio soltanto ne conosce lui il giudizio di Dio è molto diverso da quello nostro e avremo delle grandi sorprese un giorno diceva Gesù in verità vi dico che i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno di Dio mentre i figli di Abramo tanti di figli di Abramo saranno buttati fuori Dio ha il suo piano e il suo amore raggiunge chi vuole le vie di Dio sono misteriose e tutti tutti indistintamente sono chiamati alla salvezza oggi celebriamo la giornata missionaria nostra o altre pecore diceva Gesù che non sono di questo vile e anche queste io chiamo alla salvezza perché ci sia un solo vile e un solo pastore il mondo è ancora per metà pagano nel senso che tanti non hanno sentito parlare di Gesù Cristo Salvatore appena il 32 33% siamo i cristiani in questo mondo compresi tattolici protestanti ortodossi il 20% è musulmano il grande pericolo dell'Islam che grava sull'Europa sul mondo occidentale pericolo per la fede pericolo per il contesto sociale se non apriamo gli occhi questo pericolo diventerà una sconsolante realtà e poi la metà è occupata in questo cerchio del mondo dalle altre religioni o dalle altre filosofie religiose ma Gesù è venuto per tutti ecco perché la dimensione missionaria della chiesa bisogna averla davanti agli occhi il che significa che tutti i cristiani se sono chiesa sono chiamati a collaborare in un modo o in un altro alla diffusione del regno alla salvezza di tutti 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 debbono sentire che Gesù esiste che Gesù è il salvatore poi chi crederà sarà salvato chi non crederà sarà condannato ma sufficientemente deve essere proposta la via del Vangelo a tutti ecco allora i missionari che partono sono in prima linea eccoci noi che siamo in seconda linea che dobbiamo essere i missionari qua dove il Signore ci ha posto e dove ci sono tanti che devono ancora ricevere la luce del Signore ma poi noi che dobbiamo collaborare dobbiamo dare qualche cosa per quelli che sono in prima linea per quelli che rischiano la loro vita anche andando nelle missioni di Gentes andando lontano per annunziare il Vangelo di Dio guardate anche il nostro rinnovamento alle sue missioni ci sono comunità missionarie per esempio quelle di Malta una piccolissima isola dove il 60% dei cattolici sono tutti cattolici frequenta la messa ogni giorno e si comunica ogni giorno dove ci sono 900 preti 2.000 suore per una popolazione di 350.000 abitanti una terra cattolicissima che esporta missionari dovunque anche bisogna rinnovamento nello spirito ha cinque missioni proprio di origine maltese una nella foresta lera Germania un'altra in Neozelandia un'altra in Africa un'altra in India sono comunità carismatiche recentissime che sotto l'ordine di Dio su parole di Dio in assemblea partono e fanno tanto bene questo è per dire che noi rinnovamento nello spirito non siamo estranei a questa realtà e a questa vocazione la sentiamo vivissima ma anche noi come religiosi io sono francescano abbiamo tante missioni che hanno bisogno dell'aiuto qui non si fa distinzione tutti dobbiamo collaborare perché questi missionari che ci salvano la faccia perché tutti dobbiamo essere in prima linea questi missionari siano aiutati anche economicamente per divulgare il Vangelo laddove Cristo non è sufficientemente mostrato come salvatore degli uomini e allora ecco la giornata missionaria francescana il nostro compratello padre stevano che è delegato delle nostre missioni vi darà qualche cosa sulle missioni francescane e poi vi chiede l'opolo il contributo che tutti in certo modo siamo chiamati a dare obbligati a dare perché è in questa maniera che possiamo collaborare alla missione cristiana che obbligo di tutti i cristiani battesati è una maniera per soddisfare questo obbligo di aiutare a che cristo sia predicato dovunque a che la luce del vangelo sia sufficientemente mostrata a tutti gli uomini il buon dio ha delle sue vie meravigliose può alla volta convertire come convertirevi e creare dei missionari anche prendendo qualcuno di questi che non credono mi sono incontrato pochi giorni fa con una coppia di missionari i quali hanno lasciato tutto e vanno in giro per il mondo e la donna era sudcoreana convertita dieci anni fa l'ho incontrato a Pergusa con il marito che era maltese con una bambina sono a completa disposizione di dio e mi parlava di un uomo che già noi nel nostro ambiente conosciamo coreano era buddista fu convertita perché un gruppo di fedeli quando egli era gravamente malato andò impose le mani e avvenne la guarigione a quella guarigione improvvisa la grazia del Signore è scesa su di lui ed egli adesso è pastore di una immensa comunità a Seul Seul è una città di dieci milioni di abitanti ebbene questa comunità carismatica conta un milione un milione è la più grande comunità carismatica del mondo un milione questa comunità è divisa in 54.000 gruppi di 12 15 persone ben organizzate e c'è una grande montagna la montagna della preghiera dove ogni sabato sera salgono tutti gli oranti perché è costellato di case di preghiera e passa la notte in preghiera ci sono quattro cattedrali per i servizi che e si riempiono e si svuotano e si riempiono e si svuotano la domenica una comunità carismatica vivissima nata da chi? da un buddista convertito guardate le vie del Signore tanti di noi vanno a destra e a sinistra e non arrivano a creare questo portente di Dio Dio sceglie le vie un peccatore il più lontano dalla mentalità degli ebrei negli apostoli se serve di lui ne fa un apostolo un evangelista sceglie questo Pinjot che ha scritto un bel libro un buddista lo guarisce e attraverso lui ecco un milione di persone convertite che formano la più grande comunità carismatica del mondo le vie di Dio sono meravigliose e allora fratelli e sorelle io cedo la parola al nostro fratello padre Stefano egli è delegato delle missioni nostre ne abbiamo tante abbiamo tanti missionari soprattutto nel Messico che lavorano indefessamente lui vi esoterà a dare la vostra elemosina il vostro contributo per questa causa che non è la causa mia o vostra ma è la causa di Dio conferma c'è una parola che ci viene dall'apostolo ai romani la fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo ora io dico non hanno forse udito tutt'altro per tutta la terra è corsa la loro voce e fine ai confidi del mondo la loro parola il Signore dice che la fede nasce dalla parola e la parola cade cade nei popoli attraverso la predicazione se non c'è nessuno che va a predicare come potranno credere si Dio ha tante vie misteriose straordinarie ma la via diciamo ordinaria attraverso cui passa la fede è la predicazione della parola di Dio di qui la necessità che ci siano i missionari i quali predicano il Vangelo e adesso fratelli e sorelle è il momento di supplicare il Signore perché ci venga a guarire delle nostre infermità spirituali venga a guarire la nostra fede che fiacca quanta fiacchezza di fede che venga a rinverdire la nostra speranza siamo troppo attaccati alle cose della terra e non guardiamo alle cose del cielo siamo troppo legati a ciò che passa alle cose transitorie e non guardiamo alle cose eterne che ci attendono ecco perché la nostra speranza languisce chiediamo al Signore che cementi la nostra carità i vincoli di amore nell'unico Cristo che si è dato per noi amiamoci di un amore salvitico non di un amore terreno l'amore che salva quell'amore che scende dall'alto viene dallo spirito e all'alto ritorna chiediamo al Signore questa guarigione interiore e chiediamo anche la guarigione fisica ne abbiamo bisogno perché possiamo essere in grado di lavorare per il regno di Dio è vero che è ineludibile la croce dalla vita del cristiano però il buon Dio allevia la nostra croce soprattutto quando noi chiediamo con fede e quando soprattutto chiediamo la guarigione per poter assolvere tutti i nostri doveri e dare gloria al Signore e allora ecco presentiamo al Signore tutte quelle persone che si sono raccomandate le nostre preghiere attraverso il Ministero di Consolazione che noi conduciamo avanti nei dici anni e poi supplichiamo il Signore per tutti noi perché la guarigione di Cristo scenda su di noi perché si avverano le parole del Signore nel Vangelo di oggi sono venuto per gli infermi per i malati non per i sani aggiungiamo a tutte queste intenzioni tante altre suppliche deposte nei cestini e poi ci presentiamo tutti noi questa mattina tu darai ancora guarigioni spirituali e anche come indicato da alcune parole di conoscenza tante altre guarigioni fisiche noi ti ringraziamo in anticipo e per tutti innalziamo a te la nostra voce chiediamo il tuo spirito di guarigione perché scenda su di noi su tutte queste persone ti chiediamo poi oh Signore che il tuo spirito di luce scenda sulla nostra nazione che attraverso un momento difficile perché tutti siamo illuminati nelle prossime elezioni perché tutti che siamo qui siamo responsabilizzati nelle scelte che ognuno non voti come come crede così superficialmente perché nelle mani nostre la sorte della patria sono doveri civici che obbligano in coscienza a delle scelte che ognuno farà per conto proprio davanti a Dio però ognuno si regole secondo coscienza e prima di dare il voto si impormi e poi si regole senza influsso di nessuno davanti a Dio per una scelta responsabile questa maturità cristiana che spesso manca si va così alle urne senza essere responsabili del voto che si dà responsabilizziamo gli altri facciamo come gli altri ci dicono invece dobbiamo fare dobbiamo votare come la coscienza ci dice la coscienza illuminata dalla fede e dalla sana ragione ecco perché vogliamo invocare la luce del Signore e vogliamo che questa maturità cristiana cresca nella nostra gente perché poi noi ci lamentiamo che le cose vanno male ma quando vanno male in parte la responsabilità è nostra perché non abbiamo fatto noi le scelte secondo le indicazioni di Dio la vita civile ci interessa perché siamo cittadini della nostra patria perché è legata all'ordine pubblico la salute nostra spirituale e allora preghiamo il buon Dio perché dia a tutti la luce necessaria per delle scelte secondo coscienza frutto di una maturazione cristiana allora ci siamo in piedi e per queste intenzioni noi formuliamo la nostra preghiera invochiamo ancora una volta lo spirito noi non sappiamo cos'è chiedere e come chiedere sarà lui lo spirito a suggerire quello che dobbiamo chiedere e mentre noi preghiamo sarà lui a impetrare dal padre secondo i disegni del padre quello che è meglio per noi il mio cuore si allarga per voi anche questa mattina io do grazie a voi ho ascoltato le vostre suppliche signore noi ti ringraziamo perché hai ascoltato la supplica che tanta gente ha rivolto a te hai aperto il cuore alla fede in te e tu concedi grazie a tante persone ti ringraziamo signore di dieci guarigioni che stai operando in questo momento tu stai toccando un tumore stai toccando la cortezza cerebrale di una persona anche un tumore al cervello ti ringraziamo signore perché tu stai dicendo a una donna non temere il tuo giudice sono io ti ringraziamo signore perché stai toccando le ginocchia di una persona e soprattutto perché tu hai di mira questa mattina l'apparato respiratorio a due persone tu tocchi i polmoni e guarisci tu guarisci un'asma bronchiale signore di tutte queste grazie noi ti ringraziamo un uomo con una gina pectoris è toccato e il suo caso è risolto signore per tutte queste grazie in questo momento ti ringraziamo ti benediciamo non temere di incantesimo dice il signore è una ragazza io sciolgo questo male che tu chiami incantesimo non pensarci più io sono il tuo signore che libera e che scioglie che scioglie che scioglie che scioglie che scioglie Gesù noi crediamo in Te, Gesù noi crediamo in Te. E con una cascata d'acqua scende su di noi qualche persona avverte questa cascata d'acqua e il proprio cuore e la purificazione che scende dal Signore. Il fiume di Dio tocca i corpi ammalati, i cuori ammalati, la testa ammalata, il peccato, il fiume di Dio bagna le nostre vite, lasciamoci bagnare da questo fiume, da questa cascata, invochiamo il suo nome con fede. Io tocco la tua ernia, si ritererà, e con la tua malformazione io la tocco e tutto si aggiusterà. Signore ti ringraziamo e ti benediciamo di quelle che Tu stai facendo e di tant'alti grazie che Tu lo riveli. Ti ringraziamo e ti benediciamo per questa giornata di grazia. Lode, gloria, onore e benedizioni a Te, oh Signore Gesù. Incontriamo il suo nome, Gesù, tutti insieme. La mia grazia ti tocca e Tu risenti rinato, uomo, che siedi qui, da questa parte, Tu sei rinato, il tuo cuore si risana. Ringrazio il tuo Signore che ti ha toccato. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Una persona ha portato i documenti clinici di una sua guarigione e adesso fa la dichiarazione. La testimonianza è di Maria Grazia Melilli di Gela che non è presente, però appena possibile verrà personalmente a testimoniare. È una donna di 32 anni che aveva subito 22 operazioni a partire dall'età di 18 anni fino a settembre dell'anno passato, 1995, mese in cui vi è stato l'ultimo ritiro pastorale di Pergusa presieduto da padre Matteo Lagrua. Maria Grazia in quel periodo era affetta da due tumori alle ovaie ed era in attesa del ventitreesimo intervento. Prima di partire da Pergusa ebbe la grazia di parlare e confessarsi con padre Matteo Lagrua e si è confessata di un avvenimento accaduto all'età di 18 anni. Ritornata a Gela, si è sottoposta a controllo prima di subire il ventitreesimo intervento. dal controllo e dagli esami portati risulta completamente guarita. Lode al Signore. Chi avesse altre testimonianze orari da fare, alla fine della Messa potrà parlare. intanto gioiamone il Signore, perché il Signore è qui e passa, passa e guarisce, non tanto per guarire, quanto per richiamare l'attenzione su di sé, da cui viene unicamente il bene, è sempre un motivo soprannaturale molto più alto che il Signore si prefigge quando ci tocca corporalmente. Intanto gioiamone il Signore, benediciamolo e concludiamo questo momento della liturgia con una parola che il Signore ci ha dato e dodici di Zaccaria riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione guarderanno a colui che hanno trafitto. E adesso, fratelli e sorelle, con questo spirito di consolazione continuiamo nel santo sacrificio della Messa e guardiamo a colui che abbiamo trafitto guardiamo a Gesù che ancora una volta si muore al Padre per i nostri peccati e per i peccati di tutto il mondo. Ti rodiamo, Signore e ti chiediamo che la Tua misericordia ci raggiunga in questo momento e ci liberi ti chiediamo che la Tua misericordia vinca su di noi ti chiediamo, Signore che il Tuo sacrificio non sia vuoto di ricchezza per noi dacci la ricchezza del Tuo perdono dacci la ricchezza del Tuo amore dacci l'unione dei cuori vince, Signore lo spirito di discordia di astio di rancore lo spirito dei ricordi penosi che agita nel nostro cuore fa, Signore, che deponiamo questo manto che ci copra e usciamo incontro a Te che ci scrolliamo di dosso questa coltra nera e veniamo alla luce veniamo tutti attorno a Te uscite prigionieri dice il Signore uscite, venite alla luce io sono il Signore vi libero dalle vostre carceri dalle carceri del vostro cuore dalla vostra menzogna dal vostro rancore perché volete morire perché volete ancora essere sotto il peso io sono la riparazione e la vita sono venuta per voi stringetevi a me stringetevi a me ed io vi darò la luce io vi darò l'amore io vi darò la vita stringetevi a me e liberatemi da questa coltre che vi copre queste cose vi dice il Signore o sapienza eterna vieni tu non abbandonasti il giusto venduto ma lo preservasti dal peccato tu scendesti con lui nella prigione non l'abbandonasti mentre eri in catene gli procurasti uno scettro regale smascherasti come mendaci i suoi accusatori e gli resta una gloria eterna o sapienza che liberasti un popolo santo nella stirpe senza macchia da una nazione di oppressori vieni e dona ai tuoi santi la ricompensa della loro pene guidare per una strada meravigliosa gli vieni per essere ripare di giorno e luce di stelle nella notte faccia ancora o sapienza divina attraversare il Mar Rosso e lasciare alle nostre spalle l'Egitto guidaci attraverso l'acqua verso la terra della libertà e sommergi nel profondo del mare i nostri nemici gettali nell'abisso perché noi vogliamo essere liberi vogliamo venire nel deserto a celebrare le pelodi popolo mio tu non devi temere perché io sono il tuo Dio Dio che nutro gli uccelli del cielo e mi prendo cura dei fiori dei campi mi prendo cura di te solo una cosa ti chiedo segui la giustizia di prendermi cura di te io non abbandono mai i miei figli i miei giusti che camminano con me oh Signore ti ringraziamo perché ancora in questo momento stai toccando alcune persone hai toccato le ovaie di una donna e dai la maternità ad altre due donne ti ringraziamo ti ringraziamo Signore di quello che stai facendo per noi tu hai parlato oggi fa che la tua parola non cade nel vuoto tu ci inviti tu ci inviti ad avere il cuore libero tu ci inviti a seguire la luce tu ci inviti ad uscire e a camminare con te e a camminare con te tu hai dato te stesso per noi che il tuo sacrificio non sia un sacrificio vano fratelli e sorelle fratelli e sorelle alziamoci in piedi gridiamo il nostro grazie al Signore lasciamoci liberare da Lui che ha dato il suo sangue per noi camminiamo incontro a Lui e con Lui iniziamo la nostra marcia il nostro cammino uniti da Lui nella verità e nell'amore chi ha da venire a testimoniare testimonierà subito dopo la processione nella processione il Signore susciterà nei nostri cuori sentimenti di ritorno a Lui di misericordia e di amore il Signore vincerà tante resistenze lasciatevi vincere dal Signore lasciatevi vincere dal Signore fate riportare vittorie a Lui non vi ostinate davanti a Lui che vi chiede di riconcediarvi con Lui preghiamo Signore che ci hai nutrite con i tuoi santi sacramenti in questa celebrazione in onore della vita Vergine Maria fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente alla difesa e al mistero della nostra redenzione te lo domandiamo per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi e con il tuo spirito Signore Tu passi in mezzo a noi uomo di Galilea ti prego Gesù ti preghiamo Gesù sciogli le nostre catene dacci la vista degli occhi da o Signore che il nostro orecchio si apra alla tua parola ma apri il nostro cuore o Gesù passi in mezzo a noi sciogli le nostre catene liberi prigionieri o Gesù ti preghiamo consoli i mestri e gli afflitti dà la carezza tua a quelli che sono sconsolati Signore Gesù asciuga le lacrime di quelli che piangono e guarisci quelli che si lamentano per le loro ferite o Gesù passi in mezzo a noi liberatore guaritore consolatore